Michele è rivolta, chiudi, chiudi il rondo, chiudi il rondo, direzione è rivolta. Direzione rivolta, sono qua, sono dentro il colpo, attenzione, attenzione siamo qua Michele. Non so quanto viene il colpo, non so quanto viene il colpo. Non so quanto viene il colpo, non so quanto viene il colpo, ma si non ha bisogno di farlo, solo quello che partiamo e scendi è quanto viene il colpo, non lo vedo. Ok, non so quanto è il colpo, non lo vedo, sono qui, non lo vedo. grazie per la macchina 2-2 direzione Pantino, 4-7-2 direzione Pantino Grazie se lo stiamo facendo Arrivando a Pantico, è il suo lavoro, è il mio lavoro, è il mio lavoro Il mio lavoro è il mio lavoro Il mio lavoro è il mio lavoro Quindi ci sono le scattabelle C'è un garo sul mezzo Appare a prendere attacchi E' un garo sul metro La ruina va in Buona Santaria Carattera Lo stiamo a prendere, una incezione niovessa DI Rstepiamo da Basta perché non quindi ho avuto la Rutturadica Sì, da dove andiamo al Corso Paolete, lo divido con Dovera e li ho fatti a prendere 4. 472, direzione con Dovera. Vediamo poi dove vanno, magari anche sulla Melotta. Possiamo prendere anche la Melotta. 9.2 ti confermo, direzione con Dovera. Siamo quasi alla Condo. Quindi direzione con Dovera? Sì, ti confermo. Ok. Ok. Non è che andiamo verso Milano. Non confermo a 3 secondi. La carica ci saranno prima, dove andiamo in giù. Va bene, ce l'ho avuto. Confermo direzione Milano, direzione Milano, da Rondonio Dovera. Ce l'ho avuto. Di erite questa brcia, le choix di di usarla, non solo so da garage, e può servirviare uno stava percettire il suo neutro. End Mighty Greeninch no de 4 secondi due condizion, non è a me happiness. Mollerone Frau, sono da nascostante. È Tomerone, che vuole fare mi condiziona. Invece di distruggare il suo momento, non cistere il suo tempo. Non è ecva, però credendice MacDare. Siamo a semaforo, siamo a semaforo, Espino, sempre in direzione Milano. Siamo su 4, a 4 Espino, a direzione Milano. Siamo a semaforo, siamo a semaforo, a direzione Milano. Siamo a semaforo, siamo a semaforo, siamo a semaforo. Siamo a semaforo, seine persone non venutano, oh che bravo, non stai a questo male stiamo a rontu stiamo a rontu stiamo a rontu stiamo a rontu اi dovoo adesso c'è la voce mezzo direzione in mezzo adesso non girarlaopa direzione in mezzo ancora su vanno Meleniano stanno tornando indietro verso Melso verso Melso aspetta di nuovo verso Milano mi sono scantati un po' però continuano continuano sempre a lungo non capito, si è verso Melso si è sopporto di dietro verso Milano adesso è sopporto adesso è sopporto adesso in questo istante verso Melso ma stanno volando? si è sopporto di direzioni si è sopporto di direzioni Se cambia direzione ti ha avviso! Prima in quale direzione è mezzo? Schiantati adesso, vai! Dove due ci hanno fottuto! Ma se no direzione è mezzo, un po' ce l'abbiamo avvisto! Noi sono pure le due! Guarda! Stiamo sulla lontana! Stiamo sulla lontana! No! Stiamo incominati! Vole industriale! Siamo giocati in zona industriale! Vole industriale! Vole industriale! Siamo giocati in nome! Abbandonati! Ci hanno abbandonato la macchina! Sono due! Sono due! Ci hanno abbandonato la macchina! Abbandonati! 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 Fabio! Dove siete? Dove siete? Dove sei? E... E... Non lo so! Non lo so! E... Vai! Vai! Piano, piano! Abbandonati! 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 Mi ricevi! Sette! Faccio capire! Abbandonati! 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 L'indicazione è precisa, non ce l'ha! 9-2 Vai, vai! Stiamo qua in zona industriale, c'è una buona tromba su scappata